Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod Allora oggi video abbastanza breve perché ho deciso di non recensire nessuna applicazione ma di mostrarvi come installare S-Voice e cioè l'assistente vocale di Samsung anche sul Galaxy S2 aggiornato a Jelly Bean Questa applicazione non richiede il root e può essere installata anche sul firmware originale Samsung LSD quindi il nuovissimo firmware di Jelly Bean L'unica cosa che vi servirà saranno due file che dovrete scaricarvi dai link che vi lascio in descrizione I file sono S-Voice Galaxy S2 e Restore S-Voice Galaxy S2 Entrambi i file sono in formato zip e andranno flashati tramite recovery modificata Per prima cosa ovviamente dovrete inserirli in una cartella che sia facilmente accessibile dopodiché entrate in recovery andate sulla voce install zip from SD card nella schermata successiva scegliete install zip from internal SD card se l'avete messa nella memoria interna del dispositivo e da lì dovrete andare a scegliere la cartella dove avete inserito i due file Dopodiché scegliete il file S-Voice Galaxy S2 e attendete la fine dell'installazione Alla riaccensione vi troverete S-Voice tra le applicazioni Una nota, l'assistente vocale di Samsung andrà a sostituire il software Vlingo ovvero quello presente sui Galaxy S2 Se vorrete ritornare alla situazione originale ovvero disinstallare S-Voice e ripristinare le funzioni vocali iniziali del Galaxy S2 vi basterà rientrare in recovery ritornare su install zip from SD card selezionare di nuovo la cartella dove ci sono questi due file zip e scegliere il file restore S-Voice Galaxy S2 Anche qui dovrete attendere il termine dell'installazione riavviare il dispositivo e vi ritroverete le funzioni vocali originali Questa installazione può essere effettuata anche su dispositivi che non possiedono i permessi di root tramite una recovery temporanea, per esempio quella di Philz Per chi invece ha ottenuto i permessi di root e installato una ROM modificata la situazione è diversa Se la ROM modificata che avete installato è basata su un firmware Samsung quindi per esempio la Disaster ROM vi basterà installare questo file APK L'installazione sarà uguale a quella di qualsiasi altra applicazione quindi dovrete semplicemente dare installa attendere la fine e poi potrete usare S-Voice Nel caso invece di ROM AOSP quindi basate su Android puro dovrete flashare tramite recovery il file che sto per mostrarvi Il file è questo Samsung Add-on Jellybam È specifico per la ROM Jellybam Tuttavia io l'ho provato anche su altre AOSP quindi per esempio la Super Nexus o la Rootbox e funziona alla perfezione Installa S-Voice, S-Memo, la calcolatrice di Samsung, un file manager e anche un lettore video pop-up Perfetto Quindi questi sono i vari casi per installare S-Voice su telefoni senza root su telefoni con root e una ROM modificata basata su firmware Samsung e con root e una ROM modificata AOSP Ora purtroppo non posso mostrarvi il funzionamento di S-Voice perché l'applicazione che sto usando per registrare ovvero Screencast non mi permette di usare assistenti vocali durante appunto la registrazione Tuttavia per chi fosse interessato a vedere in azione S-Voice e a vederlo confrontato con Google Now e con il compositore vocale di Google vi lascio qui a destra nel video oppure sotto in descrizione il link ad un videoconfronto che ho fatto qualche settimana fa in cui appunto li paragono e si vedono bene le differenze tra i tre assistenti vocali e il loro funzionamento Perfetto Questo per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace condividerlo e far conoscere il canale Se volete proporre una ROM o un'applicazione volete chiedermi qualcosa o semplicemente farmi sapere che cosa ne pensate dei video scrivete pure nei commenti qui sotto oppure contattatemi su Facebook o Twitter I link per scaricare i quattro pacchetti che vi ho mostrato ve li lascio come sempre in descrizione e quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video Ciao a tutti